Come stai su questa volta a Catalogna? Va bene, alla fine non sto male, è chiaro che le tappe per me erano poche, le velocità sono sempre alte, però va bene, è stata una bella volta a Catalogna per adesso. Oggi una giornata per la Filippa dei Fugitivi? Oggi sono due possibilità, una che arrivi davvero la fuga, che non è mai arrivata in questa volta a Catalogna, una che si faccia l'ultima salita veramente forte e siamo tutti in gruppo all'arrivo, però vedremo come andrà in corso, io penso che oggi sia il giorno della fuga.